Via libera dall'aggiunta regionale al piano integrato di attività e organizzazione e dal piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego. Il piano integrato 2024-2026 proposto dall'assessore all'organizzazione e risorse umane Filippo Pietropaolo ha lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese. Il piano si prefigge di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. Il piano è stato elaborato tenendo conto dell'atto di indirizzo approvato dall'aggiunta regionale del mese di novembre dello scorso anno e delle posizioni delle diverse componenti amministrative in un'ottica di integrazione e convergenza sinergica. Su indicazione dell'assessore regionale al lavoro Giovanni Calabrese è stato adottato anche il nuovo piano regionale straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. In seguito all'acquisizione del parere di coerenza trasmesso dal competente direttore generale delegato della direzione generale del ministero delle politiche attive del lavoro e dal direttore generale dell'unità di missione piano nazionale di ripresa e resilienza, il Dipartimento Lavoro ha predisposto il piano per un importo complessivo di oltre 55 milioni di euro, di cui oltre 10 quali risorse aggiuntive del PNRR e quasi 45 milioni assegnate dallo Stato. Il piano individua le linee di intervento, comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti, formazione degli operatori, osservatorio regionale del mercato del lavoro, adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei centri per l'impiego, sistemi informativi e spese generali per l'attuazione.